La prima sfida è quella di costruire una identità di questo comune. Sì, cercheremo e lavoreremo appunto per far scomparire le vecchie municipalità, i vecchi campanili. Ci impegneremo da subito a fare in modo che ogni cittadino si possa sentire e si debba sentire casalino. E mi riferisco al cittadino della contrada di Morelli che è a Limitrofacosenza, fino al cittadino che sta all'Orica, su Insila, dovranno tutti quanti essere convinti e coscienti che sono in un comune, in una cittadina di quasi 11.000 abitanti con un territorio di oltre 167 km2. Io credo che sia una risorsa. E appunto il fatto che finalmente siamo uniti, allora la possiamo utilizzare al meglio perché fino a pochi mesi fa eravamo divisi, eravamo cinque comunità e quindi anche il territorio era diviso. Salvatore Bruno per la CNews24.